Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio si sono lasciati ormai ufficiale perché loro stessi hanno dato proprio la comunicazione ufficiale sui rispettivi profili social. Senza osare mezzi termini e senza effettuare giri di parole, Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio con questa frase sui propri social hanno confermato la fine della loro relazione. Non stiamo più insieme da un diverso tempo. La notizia è stata data solo ieri e oggi sta facendo il giro del web. Ovviamente i numerosi fan della coppia non hanno preso molto bene questa affermazione anche perché si sono lasciati da molto tempo ed era giusto anche nei confronti dei fans comunicarlo molto prima. Ricordiamo che Gigi e Anna già in passato avevano dovuto affrontare una crisi di coppia che però erano riusciti a superare. Questa volta invece pare non ci siano riusciti e quindi finita in modo definitivo. Ovviamente la coppia chiede riservatezza per il figlio Andrea e riscrive ancora così. Ci abbiamo provato in ogni modo ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti e è successo purtroppo anche a noi. Gigi e Anna si dividono quindi dopo tanti anni. Ricordiamo che la loro storia d'amore era nata da una relazione extracognugale perché comunque Gigi e Alessio era sposato e aveva già tre figli. Anna era solo una ragazzina poco maggiorenna a quell'epoca. si sono innamorati e la loro storia è continuato a lungo dove hanno avuto anche il piccolo Andrea come dicevo poc'anzi. Gigi e Anna quindi si dividono però in questo momento così delicato hanno desiderato proprio entrambi sempre sui loro social di rispettare la loro privacy. E infine commentano cammineremo sempre l'uno al fianco all'altro per amore di Andrea. E voi che cosa ne pensate? Scrivetemelo nei commenti, lasciatemi un pollice in su di supporto e vi aspetto come sempre per tanti altri prossimi video.